Questo è il tempo del cappuccino, del cornetto delle fette biscottate. Noi però vogliamo invitarvi ad un cocktail, se volete un aperitivo specialissimo, perché l'ospite di questa mattina è Don Massimiliano Lucchi, che ci spiega tutto, co-parroco di Salizzole, in provincia di Verona. Don Massimiliano, siediti. Buongiorno. Già mi avete messo subito l'indicazione e la traccia, che è fondamentale. Bibbia al bar. Allora, insomma, se ci si lamenta che non si va più a messa, che non si frequenta più la chiesa, sacramenti quando capita, perché non andare noi, questa è la domanda che vi siete posti, non andare noi nei luoghi di ritrovo, dove in genere un aperitivo, un bicchierino, poi voi siete zona meravigliosa, il Veneto è favoloso dal punto di vista della produzione vinicola, e quindi avete deciso di andare tra la gente. Certo, abbiamo preso come spunto l'idea appunto di nostro Papa Francesco, siate chiesa in uscita. Allora siamo usciti, usciti dalla nostra chiesa, che comunque è la nostra chiesa di Veronese abbastanza forte, c'è tanta gente, però abbiamo provato a rischiare, a fare qualcosa di differente, di nuovo, tra virgolette nuovo. Anche perché adesso c'è tutta questa moda, questa abitudine dell'attenzione sul food and beverage, e così abbiamo provato a unire le due cose, sia i gusti, sia le degustazioni, sia appunto la Bibbia. Quindi è il gusto della vita che passa attraverso la scrittura, attenzione, senza nulla togliere al nostro necessità di divertimento, a quell'oretta che ci si concede prima di cena o dopo cena con gli amici al bar. Don Massimiliano, intanto diciamo che non si tratta soltanto di Solizzole, cioè l'unità pastorale è molto ampia. Quante anime cura lei e il suo confratello che tra poco conosceremo? Allora il comune di Solizzole ha più o meno 4.000 anime, però dopo noi Verona stiamo dividendoci anche in unità pastorali, e quindi siamo su quasi 10.000, con la mia è di Sanguinetto, con Camarise, Solizzole e Bionda in Gaza, che nella simpatia delle cose l'anacronimo delle lettere in Italia viene fuori BEX. BEX, questo è il belice, che ci può pensare anche a qualcosa di alcolico, attenzione, attenzione, per chi è esperto di birra e di intorno. Don Massimiliano, posso dirle la verità? Certo. Credo che ci voglia un coraggio enorme a presentarsi in un locale dove appunto si pensa all'eccellenza del vino, all'aperitivo più stuzzicante, con una bibbia in mano a provare a parlare di Dio, non è una cosa come dire che non c'entra niente, portare Dio in questi luoghi? No, non è vero. Per me il bar, o meglio, una persona che va al bar, è perché vuole un attimo un momento di distensione, di stare con gli amici, di raccontarsi, di condividere qualcosa della propria vita. Allora, è più predisposta a lasciarsi toccare in un certo senso nel profondo, proprio perché si dà quella parentesi dalla frenesia della vita, uno va al bar, va a bersi un caffè, a rilassarsi. In quel momento, secondo me, è proprio bello e particolare riuscire a entrare con qualche discorso differente che coglie l'anima. Perché è questo che uno cerca anche, diciamo così, al bar. Una volta, cioè, non vogliamo fare confronto chiese e bar, ci sono due cose distinte. Però è inutile andare in cerca delle persone dove si trovano e soprattutto a cercare a predisporle a un incontro differente. Bellissimo, guardate, sembrano parole, come dire, piuttosto astratte. Ed invece noi che siamo sempre, sempre curiosi, siamo voluti venire a vedere un incontro di Bibbia al bar con il confratello di Don Massimiliano. Vi prego di guardare, più che altro, di fissare lo sguardo, i volti di queste persone sorprendenti. Guardate qui. Mauro Gottardo Tra le tante esperienze della nostra comunità parrocchiale c'è anche questa, Bibbia al bar, che ha suscitato molto interesse giustamente perché è un tentativo di proporre al di fuori degli ambienti normali di pastorale l'incontro con il Cristo. Lui dice solo due parole. Gesù ti ama. Questa sera siamo in un bar di Salizzole ed è interessante perché c'è questo incontro tra, diciamo, giovani, gente che magari frequenta raramente la parrocchia e molti nostri operatori pastorali. L'intento è proprio comunicare un interesse. Noi siamo interessati a voi, ci teniamo a voi e vogliamo proprio darvi il nostro tesoro, che è quello di Gesù Cristo, attraverso la parola e anche le varie degustazioni di vario genere. Stasera è il vino. Qui nelle nostre zone il vino è molto diffuso e anche c'è una grandissima cultura del vino e speriamo che questo possa aiutare le persone ad incontrare Dio nella loro vita. È un'esperienza interessante che fa comunità, che unisce sia la popolazione del paese che magari anche al di fuori le frazioni che cerchiamo di unire con l'unità pastorale. È bello perché dà contenuti che magari durante la messa non si ricevono e sono argomenti che vengono approfonditi ma vengono approfonditi anche con una bella leggerezza, con un bicchiere di vino o con delle castagne. È un bel connubio che sicuramente aiuta anche la comprensione poi di quello che si va a leggere, del Vangelo o della parola. Il Don è molto bravo a colpire proprio dove serve e anche per noi giovani risulta essere semplice e piacevole come esperienza da fare. E devo dire che di tutta l'età è trasversale questa partecipazione. Don Max la chiamo così come la chiamano tutti. Mi dica la verità, quando avete proposto un'iniziativa del genere quali sono state le prime reazioni dei proprietari di questi locali, degli esercenti? Vi hanno detto che questi sono matti o che? Ma no, in realtà la cosa è stata studiata con alcuni di loro. Ci siamo detti, noi siamo in un paese di campagna quindi non è che ci siano grandissime attività. È ben visto, però bisogna sempre creare qualcosa di nuovo. Ci siamo detti come possiamo creare qualcosa di differente proprio per usare tutti i nostri spazi. A Salisal abbiamo anche un castello, infatti le riprese sono andate nelle bastioni del castello, nelle cantine di questo castello. Allora abbiamo detto proviamo a fare questa cosa qui, proviamo a creare un qualcosa che parla di gusto e di Bibbia. Proprio per dare un gusto differente anche alle nostre realtà, anche ai nostri spazi. Proprio per metterci in gioco in maniera diversa, anche per vedere se riuscivamo anche ad attirare le persone che magari in chiesa non verrebbero. Tra l'altro noi ci stiamo interrogando, soprattutto in alcune zone, in alcune città italiane, come tenere sotto controllo questa movida eccessiva e che poi si finisce direttamente dall'alcol a delle situazioni molto più grave. Pensate cosa sarebbe, almeno se in una, in uno di questi locali, una volta al mese almeno, il sabato sera, si potesse fare anche un discorso diverso. Secondo me pian pianino arriverebbero tutti. Don Max, la sorpresa di tutto questo, cos'è qualche episodio, qualche storia che è venuta fuori da questo incontro? Anche di persone paradossalmente più rispingenti all'inizio. Ma la cosa che mi è piaciuta di più è il fattore di unire il bimbi e il gusto nel senso e ogni volta gli insegniamo come assaggiare un vino perché noi in medio lo prendiamo, lo beviamo. Invece c'è tutta un'arte, bisogna stare lì, bisogna lasciarlo respirare, bisogna annusarlo prima, sentire l'intensità, i profumi, poi si lascia girare un po' così, poi vengono fuori altri profumi, poi lo gustiamo. Ogni volta gli faccio tirar fuori alle persone che cosa sento, gli chiedo cosa sentite. proprio perché abbiamo bisogno di tirar fuori i nostri sensi, infatti anche all'inizio del percorso facciamo usare una candela profumata così, perché io credo che Dio parli attraverso anche i nostri sensi e che noi lo pensiamo soltanto. Quando noi parliamo di Dio, parliamo di un concetto, invece Dio lo si sperimenta, è un'esperienza. Un filosofo, non ricordo, diceva di fronte al Dio dei filosofi non si può danzare, mentre invece il nostro Dio è il Dio con noi. Quindi voglio proprio sottolineare questo conne e far vedere la gente che c'è lì in ogni momento. E questo è quello che fa la differenza e che vi porta, credo, anche ad essere così coraggiosi. coraggiosi, perché insomma, Don Max, ci vuole, io lo dico sempre, sia per le predicazioni su strada, le missioni tra la gente, ci vuole la corazza addosso, anche da parte vostra. Avete mai avvicinato qualcuno che vi respinga, che dice, sentite, state lì, non ne voglio sapere? Certo, succede spesso e volentieri tutti i giorni, non bisogna andare al bar per essere rispinti. Credo che Dio abbia su ognuno un suo progetto e ognuno ha il suo tempo. Non è che andiamo tutti alla stessa velocità, tutti siamo nel stesso cammino o la stessa parte del cammino. Chi troviamo così lo affidiamo al Signore, allo Spirito Santo e prima o poi crescerà o si sveglierà oppure si accorgerà che anche per Lui c'è misericordia. Frequento un po' Nuovi Orizzonti e con Chiara Miranti dice sempre andiamo in ascolto agli ultimi e soprattutto questo grido inascoltato. Tutti coloro che ci respingono hanno questo grido inascoltato e che non credono che lì possano essere ascoltati. E invece succede anche questo. Don Luca, quante di queste persone poi dopo, in un certo senso, fanno un passo successivo? Hanno bisogno di capire di più? E semmai ve li trovate in una delle parrocchie dell'unità pastorale? Beh, questo è il secondo anno che facciamo questa esperienza Bibbia al Bar e la gente è aumentata. E ti vedi. Quindi anche in quella serata eravamo i 90 persone dentro un barezzo. Ma infatti ho visto tantissimi. E voglio dire, noi non è che avvisiamo più di tanto, eh. Cioè, si è andati in là, si è organizzato e basta. Perché non è che noi mettiamo manifesti quando veniamo. Anzi, il nostro scopo è quello. C'è bisogno di esplorare, secondo te, secondo lei, questi luoghi apparentemente così lontani dalla parrocchia, il futuro dell'evangelizzazione passa proprio per quelle pietre o no? Sicuramente. Ma cos'è l'evangelizzazione se non far aprire il cuore alla gente e far comprendere che è un figlio amato? È solo questo. Cioè, cosa cerca la gente? Cerca di essere ascoltata. Cerca qualcuno che li ascolti, che stia lì con loro, che condivida il peso della vita e delle loro situazioni. La gente si arrabbia quando la Chiesa non fa questo. Allora, non ci sono questioni. La gente ha bisogno di spazio, di tempo e soprattutto di questo ascolto, di essere compresa, di essere valorizzata, di avere un senso e di ritrovare un senso alla loro vita. Per me è quello di stargli accanto, di stargli vicino, in tutte le forme possibili. Per me, esempio, la mia storia è partita da un quadro, la mia vocazione è partita da un quadro, San Bernardo d'Abraccia Cristo di Francesco Ribalta, che ho, quando ho fatto l'Istituto d'Arte, ho trovato. E questo quadro indica questo Gesù che scende dalla croce per abbracciare il monaco. Questo abbraccio, secondo me, è quello che la gente ha bisogno, che cerca, che magari non sa di cercare, ma che il loro cuore chiede, è il loro grido, ho bisogno di questo amore. C'è un prima e un dopo anche nella sua vita, Don Max? Beh, sono diventato prete da 30 anni, però la mia storia tra scout, parrocchia, arte, perché insomma vengo fuori dal mondo dell'arte, di musica, è stato un continuo. Diciamo che è stata un'evoluzione a livello spirituale che mi ha messo alla ricerca della bellezza come canale per incontrare Dio, però Dio è bellezza per eccellenza, quindi tutte le sue forme della bellezza ovviamente sono buone per mettersi in gioco, per mettersi in ascolto di Lui, per scoprire il suo amore. E lei è quel monaco che sta ai piedi della croce? Diciamo tante volte, mi piacerebbe arrivare a quell'abbandono che questo monaco esprime di fiducia, di affetto verso questo Dio che scende dalla croce per te, certo, è l'aspirazione per tanti, spero, per me, è quella che ha colpito un ragazzo di 17-18 anni l'età che l'ho incontrato in questo quadro e poi è stato un po' un leitmotiv per me che mi ha spinto a cercare nella musica, nell'arte, nelle cose della gente appunto questo legame profondo. Domax, quando si vedono le chiese vuote? Noi da fuori siamo molto bravi a dire grazie la predica è lunghissima, quel prete non mi piace, ha le chiacchiere, le cose, tanto siamo qui. Invece un sacerdote dall'altra parte, quelle panche vuote, quella sonnolenza, mi posso permettere di dire, durante una celebrazione, cosa suscita? suscita uno smarrimento della gente, suscita come prete il pensiero ma ho provato tutto, è vero che siamo servi inutili e cerchiamo di fare tutto per il Signore, però a volte serve, non dico quelle gratificazioni perché non parliamo di gratificazioni, però quella, almeno quel minimo di risposta. La mia fortuna è che in tre parrocchi di campagna ho 7-8 messe fine settimanali tutte piene. Perché Don Max e Don Luca probabilmente hanno capito che bisogna andare incontro e questa iniziativa di Bibbia al Barro io mi auguro che possa essere replicabile perché no? In tutte le diocesi italiane. Voi siete disponibili a dare una mano ai sacerdoti che probabilmente stanno già provando a cercare su internet il vostro recapito telefonico perché il tempo si spera è questo, noi scateniamo delle tempeste, meravigliose di amore. Don Max, grazie di cuore. Grazie a voi. Sto leggendo un libro bellissimo sul Galateo e il mio regista stamattina mi ha fatto scuola perché essendo astemia io sono molto distante da questi calici, ho imparato a far così stamattina, non si dice cin cin, però questo vorrebbe essere veramente un invito a trovare il buon senso, a gustare la presenza di Dio, perché no? Anche attraverso un aperitivo. Don Max, lei è fortissimo. Grazie mille. Mi saluti quell'unità pastorale che è grande e Don Luca. Grazie a tutti. Grazie a tutti.